Il Natale ha portato una bella sorpresa per la misericordia di Magione. La scuola per l'infanzia Giuseppe Danzetta e la casa serena Zefferino Rinaldi, grazie alla generosità e sensibilità dell'imprenditore Michele Cinaglia, presidente della multinazionale Engineering. L'ingegner Cinaglia ha deciso di donare ad alcune associazioni e istituzioni del Comune di Magione una somma di riconoscimento del lavoro che queste svolgono a beneficio della comunità. La somma è stata consegnata al sindaco di Magione Giacomo Chiodini, che si occuperà della consegna, ad accompagnare l'imprenditore, in questa occasione anche Sauro Scota e Sergio Rutili, responsabili di un nuovo progetto aziendale della famiglia Cinaglia che vede coinvolto il territorio di Magione, in particolare la zona industriale di Agello. Si tratta di una azienda agraria di eccellenza. La famiglia Cinaglia si è impegnata a dividere gli utili che verranno da questa attività con associazioni e istituzioni benefiche della Magionese.